Buonasera, benvenuti a Buonasera a voi da casa che ci seguite numerosi, vi ricordo sempre che potete interagire con noi scrivendo a redazione chiocciolatelevomero.it Daremo anche in questa puntata sindaco spazio ai nostri telespettatori, non prima però di aver affrontato degli argomenti importanti che riguardano il futuro della nostra città. Quindi vediamoci insieme alla copertina. Grazie a tutti. Allora sindaco, la nostra copertina è dedicata a Bagnoli, una storia infinita potremmo dire, è una riqualificazione che sono 20 anni che tutti attendono. Qui alla mia destra abbiamo scelto una foto che in qualche modo sintetizza ciò che sta accadendo, chi inquina paga, chi inquina paga e poi abbiamo messo tre punti interrogativi. Perché c'è un motivo, il Tarra della Campania ha deciso di bocciare praticamente la sua ordinanza che era proprio titolata chi inquina paga, con cui lei intimava la FinTechna di bonificare i suoli che aveva precedentemente inquinato. E quindi chiaramente la logica c'era tutta. Invece poi a sorpresa viene questa decisione che accetta il ricorso della FinTechna. Cosa è accaduto e perché soprattutto analizziamo è accaduto? È una partita giudiziaria e non solo molto complessa, con interessi anche molto forti. L'ordinanza che ho fatto è un'ordinanza senza precedenti. Quindi è un'ordinanza coraggiosa, motivata molto bene. Noi impugneremo in Consiglio di Stato questa ordinanza, quindi la partita non è finita. Del resto adesso quello che a noi più interessa è che il governo possa e debba onorare quello per cui si è impegnato il 14 agosto, in cui fu Renzi, il Presidente del Consiglio, a dire che mi impegno a bonificare e a trovare le risorse. Poi c'è il tema che inquina paga, che rimane. Non è me lo so inventato io, inquina paga. Inquina paga è un principio che sta nei provvedimenti giudiziari più evoluti, più avanzati. E credo che sia una pagina bella, che una volta tanto sia un sindaco, prima di aspettare la magistratura con le sue sentenze finali o con le sue indagini, che individui carte alla mano il soggetto inquinante. A nostro avviso, e non solo a nostro avviso, è fintecna innanzitutto. Il Tar, con motivazioni che non condividiamo in questo caso, che rispettiamo ovviamente, quindi va fatto appello al Consiglio di Stato. Sono convinto che alla fine la vinceremo. Tutte le battaglie, le battaglie difficili, poi le battaglie sull'inquinamento, sui poteri forti. Perché dovrebbe pagare il Comune poi, secondo le motivazioni del Tar? No, la c'è, non è il Comune. Si fa riferimento a Bagnoli Futura, in realtà. Si fa riferimento a Bagnoli Futura, che come si sa nel passato, quindi parliamo delle precedenti gestioni amministrative, non la mia, ha gestito le bonifiche e oggettivamente le ha gestite anche in modo sbagliato. Su questo ce lo siamo detti più volte, anche io l'ho sottolineato, ed è per questo che il superamento di Bagnoli Futura è stato un obiettivo che andava perseguito. Noi siamo convinti della bontà delle nostre azioni. Adesso lavoreremo fino in fondo perché, innanzitutto, che è la cosa più urgente, il governo metta le risorse. Poi si accerta in tutte le sedi chi ha sbagliato e chi ha inquinato. Se qualcuno ritiene che nel passato, oltre a FinTech e a Cementi, ci sia stato anche altri che hanno inquinato, come può essere Bagnoli Futura o anche altri soggetti, comunque pagheranno anche loro. A che punto è l'accordo di programma quadro, senza il quale non si può andare avanti, pertanto rimane ancora così bloccata la vicenda Bagnoli? Quello è il protocollo. L'accordo di programma quadro era legato soprattutto a Città della Scena. Tutto fermo. Qui, secondo me, si apre una partita che non è solo giudiziaria, ma soprattutto istituzionale e politica. Il governo si è incartato perché il governo aveva raggiunto con noi un obiettivo importante il 14 agosto, cioè quello di impegnarsi a dare i soldi per la bonifica. Se avesse dato seguito a quel protocollo con un accordo di programma quadro, quindi 14 agosto, adesso stiamo ai primi di febbraio, è passato tanto tempo, avremmo fatto passi da gigante in avanti. Invece il governo non ha fatto nulla, anzi, ha fatto una legge con cui ha commissariato l'area, di fatto non ha nominato il commissario, si è aperto un fronte popolare molto ampio contro lo sblocca Italia, che adesso vede eminenti giuristi, intellettuali, tante persone che si stanno schierando contro lo sblocca Italia, impugnato in più sedi in parecchie parti del nostro paese. Quindi credo che il governo abbia scelto una via sbagliata. Io dico che lo sblocca Italia per Renzi doveva essere l'inizio dello sblocca Italia, invece sta diventando l'inizio, l'epicentro di una grande battaglia politica contro le speculazioni. E noi siamo in prima linea, quindi su Bagnoli non siamo fermi, apparentemente può sembrare così, ma questa è la partita decisiva e noi la vinceremo, la vinceremo finalmente per rilanciare definitivamente Bagnoli, perché noi i progetti li abbiamo presentati, io li riporterò anche tra qualche giorno alla Presidenza del Consiglio, che è un appuntamento, quindi noi siamo pronti, come siamo stati pronti per le vele, eccetera. Quanto può ritardare questa decisione? No, non ritarda nulla perché questo riguarda il passato. La decisione riguarda chi inquina paga, quindi chi è inquinato deve risarcire. Mi sembra un concetto assolutamente giusto. Invece noi adesso guardiamo sia a quello che al futuro, quello è giusto, chi inquina paga, e vediamo poi chi ha inquinato pagherà secondo le vie giudiziarie. Poi c'è invece la prospettiva politica istituzionale, noi vogliamo guardare anche al futuro, quindi chiediamo al governo di onorare gli impegni sulle bonifiche, noi lo metteremo un po' all'angolo da un punto di vista istituzionale e politico del governo, perché presentando il nostro progetto, che è un progetto pronto, invitiamo al governo a fare altro, e poi vogliamo aprire un grande, lo stiamo facendo, lo faremo sempre di più, un confronto popolare con la cittadinanza, come abbiamo fatto con le vele. Quindi progetto, consultazione popolare, lotta politica, mobilitazione di sindaci, questa è la grande novità sullo Sblocca Italia, che vede Bagnoli, ma vede tanti altri sindaci. L'altro giorno sono stato nella zona del Diano, del Cilento, dove sono tante battaglie di movimenti, associazioni contro speculazioni, siamo in contatto con l'Irpinia per quanto riguarda le trivellazioni, stiamo unendo i sindaci di diversi colori politici contro chi vuole continuare a massacrare il nostro territorio. Perciò adesso è una battaglia veramente importante. Anche perché Napoli si gioca una partita veramente importante per la riqualificazione di Bagnoli, insomma. Ci sono troppi e troppi anni di attesa, troppe risorse sprecate. Sì, tant'è che ci sono anche altre novità, perché noi su Bagnoli lasciamo perdere un attimo Exit al Sider, quindi cuore di Bagnoli, via le Campi Flegrei e il resto, stiamo facendo un lavoro importante anche di riqualificazione, anche di sinergia e di contatto con molti commercianti. Ricordiamo le attività che fanno anche i commercianti col centro commerciale naturale e altre cose, ma anche una novità importante, io ho diffidato formalmente la fondazione Banco Napoli per l'infanzia, il commissario della fondazione Banco Napoli per l'infanzia, il presidente della regione, a onorare gli impegni di un protocollo che ormai abbiamo firmato, credo circa più di un anno fa. È un protocollo che potrebbe far ripartire immediatamente la ex area Nato, il collegio Ciano, con i progetti su Sall'Aise, l'agricivismo, la città dei giovani, le scuole, il teatro, tutto fermo perché anche qui c'è chi pensa di fare speculazioni. Ed è un po' triste che il commissario della fondazione Banco Napoli per l'infanzia tenga fermo, non attua il protocollo che la fondazione ha firmato e potrebbe mettere a reddito, invece sostanzialmente tengono fermo a un'area di 100.000 metri quadri. Quindi su Bagnoli abbiamo le idee molto chiare. Anche perché la ricordificazione significa anche portare denaro, c'è un indotto, si muove l'economia in un momento di grande crisi dove le attività commerciali purtroppo continuano a chiudere, dove le fabbriche chiudono. Chiaramente bisogna cercare, attingere da altre risorse. Io voglio dare anche ulteriore impulso utilizzando questa ulteriore incombenza che mi è capitata al primo gennaio come sindaco della città metropolitana, cioè l'utilizzo e la valorizzazione dell'area mare. Con via Napoli noi colleghiamo Pozzuoli e gli altri comuni dell'area Flegrea con Bagnoli, quindi con Napoli, e là si può fare un bel lavoro sulle vie del mare. Quindi insomma noi vogliamo puntare... Il mare è una risorsa infinita potrebbe essere per la nostra città. Assolutamente, la Bagnoli è una partita importante, è complicata, è difficile, perché certe volte sembra veramente Davide contro Colia, sembra che quelli che hanno massacrato Bagnoli sono dietro l'angolo per riprovarci. Quindi insomma stiamo cercando di vincere questa battaglia. Quello che mi fa piacere è che vedo sempre crescere una sensibilità popolare nel centrare e nel comprendere la posta in gioco. Un altro argomento importante sicuramente è il mercadante che attende di essere riconosciuto come teatro nazionale. Cosa è accaduto in queste ore? Il mercadante sono accadute cose che non mi sono piaciute, sono accadute cose belle sulle quali abbiamo lavorato, cominciamo da qui, devo dire abbiamo lavorato anche insieme al teatro, che è quella della proposta che abbiamo presentato al governo per far riconoscere al teatro stabile di Napoli, di quello di essere teatro nazionale. Questo è un obiettivo che raggiungeremo, perché ci teniamo tantissimo, abbiamo interlocuzioni importanti col governo, sarebbe il primo teatro nazionale del sud Italia. La decisione dipende dal Ministero? Dal Ministero dei Beni Culturali, significano risorse, ma poi soprattutto significa dare grande solidità alla scuola del teatro comunale, che ho fortemente voluto, che guiderà Luca De Filippo, che sarà al San Ferdinando, che deve avere anche una forte sinergia con lo Stato e quindi con il riconoscimento del teatro nazionale. Queste sono le belle notizie, quindi l'investimento economico, però in autunno sono accadute cose un po' strane. Ci sono state molte ombre anche relativamente a delle assunzioni, quindi c'è un bando per l'assunzione di 15 persone, che ha creato molti malumori. Sono accadute in particolare tre cose. Una prima è un tentativo di modificare in peius lo statuto, cioè un tentativo in qualche modo di rompere gli equilibri istituzionali all'interno del teatro mercadante, ridurre la presenza del comune, non prevedere la città metropolitana, utilizzando una scelta pessima che aveva fatto Pentangelo, l'ex Presidente della provincia, che era uscito dal mercadante e dal teatro San Carlo, quasi come se la cultura fosse un fatto minore all'interno della rinascita di un'area urbana della ex provincia, mentre invece attraverso l'attenzione che ho personalmente messo in campo, nonostante non mi avessero correttamente informato su quello che stesse accadendo, abbiamo evitato questo blitz. Quindi abbiamo mantenuto una forte presenza del comune, poi c'è la regione, c'è il Mibac, entrata dalla fondazione Banco Napoli e poi sono entrato con una mia missiva come sindaco della città metropolitana, quindi recuperando quella grave condotta tenuta dalla provincia di Napoli. Poi è accaduto che c'è stato a mio avviso un rinnovo anche molto ampio della figura del direttore artistico con un contratto quinquennale che secondo me l'ho trovato francamente eccessivo anche rispetto alle coperture e alla tenuta economico-finanziaria dell'ente e poi questo concorso nel carteggio anche nelle carte che ho acquisito perché io poi da ex magistrato sono abituato a guardarle bene le carte e devo dire ci sono più cose che non mi convincono, poi ho messo insieme un po' tutte le cose, ho deciso di fare quello che un socio fondatore di un teatro deve fare, mai ingerire nella gestione, io lascio sempre piena autonomia, infatti penso che di non aver mai fatto nemmeno una telefonata, nemmeno per chiedere un atto gestionale, ma di fronte a fatti gravi come questo abbiamo preso atto delle dimissioni del nostro consigliere la giornalista Adriana Pollice, ma soprattutto abbiamo revocato il presidente del mercadante il professor Giannola perché è venuto meno il pactum fiducia che sta dietro a 8 e 9, ma ho voluto fare una cosa in più, pur potendo nominare direttamente il nuovo presidente e il nuovo consigliere di amministrazione ho deciso di fare una manifestazione di interesse pubblico, approfitto anche delle telecamere di Televomero per sperare, auspicare e chiedere a tante persone del mondo della cultura soprattutto di fare domanda, perché in modo che noi possiamo avere un ampio spettro di personalità che se la sentono, come dire, di guidare quello che sarà il teatro nazionale di Napoli e il più importante quindi teatro nazionale del sud, anzi l'unico teatro nazionale del sud. Quindi abbiamo voltato pagina per la trasparenza. La più assoluta trasparenza come è giusto che sia, anche perché tutte queste ombre sicuramente non fanno bene alla cultura, poiché parliamo di cultura c'è bisogno assolutamente di trasparenza. Le ombre vanno diradate, poi può essere che il concorso è perfettamente regolare, però ci sono troppe cose messe insieme. Molti lamentano molte irregolarità. Tre indizi messi insieme giustificano un cambio di rotta e questo cambio c'è stato, quindi vedremo poi cosa succederà. Io adesso darei spazio un attimo alle domande da casa, cominciamo con la prima clip. La pensiero va soprattutto, anzitutto, alla difficoltà e alle speranze dei nostri concittadini. È sufficiente questo. Allora Sindaco, Michela dice abbiamo un nuovo Presidente della Repubblica, sarà secondo il Sindaco De Magistris un garante della democrazia e della Costituzione ed imparziale con tutti i partiti. Mi piacerebbe il suo parere, ha dovuto subire per anni un Presidente che io non ho mai visto imparziale, soprattutto visto che non ha fatto molto per la città di Napoli. Michela, rispettiamo il suo parere. Io lo rispetto particolarmente perché io non ho mai nascosto un giudizio critico nei confronti del Presidente Napolitano su varie cose, però adesso guardiamo al futuro. Quindi condivido il giudizio negativo complessivamente, espresso da Michela. ho fiducia che Sergio Mattarella possa essere un buon Presidente della Repubblica, perché ha una storia personale importante. Viene da una terra difficile che io amo profondamente, che è la Sicilia. conosce bene le dinamiche delle infiltrazioni delle mafie all'interno delle istituzioni e della politica e siccome secondo me la lotta alle mafie deve essere una priorità, che finora non lo è per esempio per il governo Renzi, è un giurista. Gli ultimi anni è stato giudice della Corte Costituzionale. Certo, non è un uomo fuori dal sistema, sia ben chiaro. Non è stata fatta né una rivoluzione, né una novità e devo dire né qualcosa che infiammi. Io ho fatto spesso l'esempio di Pertini, che è una persona che a me ha appassionato particolarmente. Però ci sono le condizioni perché Sergio Mattarella possa essere un garante della Costituzione, quindi che possa esprimere in modo degno l'unità nazionale nell'esaltazione anche delle diversità del nostro Paese. Certo, viene ovviamente da una tradizione di continuità, poi sembra che adesso quasi tutto ritorna a essere un po' democristiano nel nostro Paese. Però io credo questo nel chiudere che tutti e in particolare i Presidenti della Repubblica devono essere giudicati dai fatti. Quindi adesso facciamo lavorare il Presidente della Repubblica, dandogli un caloroso in bocca al lupo e buon lavoro. Poi lo giudicheremo dai fatti, come abbiamo fatto con Napolitano. Io ricordo che fui particolarmente contento per quando fu eletto perché c'era il rischio che venisse eletto D'Alema, quindi io tra i due dicevo meglio Napolitano. Il male peggiore. Poi ho giudicato Napolitano dai fatti e il giudizio per una serie di motivi è un giudizio severo. A proposito di dato politico, secondo lei quanto questa elezione del Presidente della Repubblica ha rafforzato il Premier Renzi? Visto che poi è stata una sua decisione. L'ha rafforzato, del resto Renzi pur essendo giovane ha una tradizione democristiana, quindi non rappresenta nemmeno lui una novità, ahimè, perché secondo me lo poteva rappresentare non solo per un fatto anagrafico ma anche per come si è rappresentato, aveva mostrato una certa brillantezza. Rimane un buon comunicatore a mio avviso, però è un uomo del sistema, tant'è che anche in questa partita è venuto fuori un abile politico, anzi in regime. E quindi vedremo questo Presidente della Repubblica se veramente sarà il garante della Costituzione soprattutto, perché si parla tanto di cambiare la Costituzione, ma comunque abbiamo una Costituzione che va rispettata innanzitutto prima di cambiarla. La Banca Difesa è attuata, perché tanti articoli della Costituzione, citiamone uno per tutti, il primo, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, vediamo quanti disoccupati ci sono. Io pure dico sempre, la nostra Costituzione prima di cambiarla difendiamola con i denti, attuiamola, perché secondo me è la più bella Costituzione del mondo. E poi secondo me nei momenti di crisi bisogna ancora di più attenersi alla Costituzione e proprio veramente stringersi intorno alla Costituzione, perché il pericolo che non venga più rispettata e ci possa essere un ribaltamento di fronte è proprio dietro l'angolo. Posso aggiungere giusto un'altra cosa, se pensiamo a chi sono stati i padri costituenti, dov'è la storia della Costituzione, dalla resistenza, dalla libertà, dai partiti che una volta erano grandi parti, pensare che oggi la Costituzione debba essere formata dal patto del Nazareno, che hanno dato pure a suo termine Nazareno, che invece ha una sua evocazione di grande spiritualità e di grande storia, una cosa di così basso livello, pensare che questi debbano essere i nostri formatori costituenti, io francamente me la terrei ben cara. Vengono i brividi e assolutamente condivido il fatto di tenerci cara alla nostra Costituzione. Vediamo adesso il maltempo, cosa ci chiede Antonello. Grazie a tutti. E allora Sindaco, sono immagini inquietanti, ma purtroppo veramente piove incessantemente da 3-4 giorni e i giorni passati non sono stati nemmeno molto buoni, quindi veramente una situazione drammatica. Antonello dice, caro Sindaco, perché a Napoli quando piove accade di tutto? Come Comune avete messo in campo tutte le energie necessarie per limitare i danni anche a noi cittadini? Ringrazio Antonello di questa domanda, devo dire che non solo a Napoli accadono immagini di questo tipo, ma in tutta Italia. Allora partiamo da una premessa che il nostro paese avrebbe bisogno ad esempio di un grande piano di investimenti, di risorse pubbliche per sistemare il sottosuolo, le strade, le infrastrutture, le fogne di tutto il paese. Vedete quello che è accaduto, infatti i giorni tragici come Genova, ma anche in altre parti, quindi quelle immagini purtroppo quando piove così incessantemente per giorni e giorni è difficile pensare che non possano accadere, perché poi a giorno di pioggia si accumula a giorno di pioggia, quindi per esempio anche oggi che noi abbiamo la possibilità, che abbiamo previsto le squadre di pronto intervento tra Napoli Servizi e Proiezioni Civili, non possono uscire le squadre. Io oggi mi sento un po' più sereno e quindi rispondo anche a una parte alla domanda. Sì, abbiamo messo in campo tutte le azioni per prevenire e per intervenire, sono più sereno perché nel momento in cui smette di piovere oggi abbiamo risorse economiche, ma soprattutto risorse umane, mezzi che abbiamo dato per intervenire. Quando nei giorni scorsi ci sono stati dei giorni di pioggia significativi 4 di fila, al quinto giorno siamo intervenuti e in 2-3 giorni siamo riusciti a riparare. Adesso fin quando non smette di piovere, ecco, basta qualche ora, interveniamo, ma se interveni e riprendi a piovere poi si possono anche riaprire. Certo, si deve fare sempre di più, ma là è un problema di risorse economiche che sono molto molto scarse. Purtroppo noi non abbiamo come comuni soldi per poter fare opere infrastrutturali tali da scongiurare anche quel tipo di immagini. L'impegno è massimo, per oggi la serenità che posso dare è che non appena ci sarà la cessazione di questa continuità di pioggia, le squadre sono pronte a intervenire e giro 48, insomma 2-3 giorni si risolve tutto, in 2-3 giorni si riesce a intervenire. Le situazioni più difficili. Andiamo avanti, vediamo cosa chiede Marcello, come sempre noi le domande dei nostri telespettatori le trasformiamo in immagini per rendere più viva la trasmissione. Vediamo. Allora Sindaco, abbiamo visto le immagini del Trianon, abbiamo prima parlato ampiamente del mercadante, Marcello dice è sindaco, segue l'ente di ingrandimento e i suoi interventi, grazie ai quali ho capito che le sta a cuore la teatro Trianon di proprietà della regione, che però se ne vuole lavare le mani, fregandosene anche dei dipendenti. Ma lei come comune non può avanzare una richiesta di affidamento e salvare un pezzo di storia, si potrebbero anche coinvolgere delle forze imprenditoriali sane con vincolo naturalmente di destinazione affinché rimanga un teatro. Lo ringrazio perché è esattamente quello che stiamo facendo, ci siamo già mossi da tempo chiedendo alla sovrintendenza innanzitutto il vincolo, vincolo come destinazione culturale e che quindi non ci potranno essere utilizzi alternativi in quell'area, centri commerciali, supermercati, slot machine, bimbo o altro. Poi siccome il teatro è di proprietà il 70% della regione, il 30% della provincia, ex provincia, la regione si è sfilata, non vuole pagare i debiti, ha abbandonato il campo, quindi noi stiamo chiedendo alla regione di pagare i debiti, di non abbandonare il campo, ma siccome su questo faremo una battaglia politica non so però dove ci porterà. Per il 30% della provincia io come sindaco della città metropolitana ho deciso di esserci sul Trianon e quindi fare la mia parte per salvarlo. Come comune abbiamo lanciato, dovremmo farla il 17 febbraio, un'assemblea pubblica per salvare il teatro Trianon dove invitare tutte le forze volenterose, sane, energiche della nostra città, anche del mondo dell'imprenditoria, anche per lanciare un azionariato popolare diffuso, investimenti e dare una cornice istituzionale forte e stimolare anche una partecipazione dal basso, come in parte si fa nell'ex Asilo Filangeri, come in parte si fa in altre parti d'Italia. Vogliamo dimostrare che la parte migliore di Napoli vuole salvare il teatro del popolo a Piazza Calenda e lo salveremo e come dire anche i lavoratori, sono 11 lavoratori che là dentro hanno diritto a essere sereni. Quindi c'è un grandissimo impegno di cui mi sono fatto carico da sindaco di Napoli pur non avendo la titolarità all'interno del teatro Trianon. È proprio una battaglia culturale che porteremo in campo fino alla fine. È molto bello che i nostri telespettatori avanzino proprio delle proposte che significa che veramente seguono la nostra città da tutti i punti di vista. Per noi questo è molto utile perché al di là della critica costruttiva che è giusto che ci sia, ci deve sempre stare per chi governa e io le amo particolarmente le sollecitazioni, ma quando poi sono accompagnati da proposte è ancora più bello perché poi tante proposte noi alla fine le abbiamo accolte e le abbiamo sostenute. Infatti l'avanza la proposta, fate una richiesta di affidamento, magari non so se si può fare però avanza la proposta, è molto bello, continuate a farlo. Vi ricordo nuovamente telemail a redazione chiocciolatelevomero.it. Vediamo ancora. sindaco Donatella dice sono una mamma insegnante disperata per le difficoltà quotidiane di giungere a scuola e poi tornare a casa dai miei bambini. Utilizzo il metro e se prima i treni passavano con regolarità ora la cosa non è più così e passano dopo molto tempo mi aiuti? Credo fortemente nell'utilizzo dei mezzi pubblici per lasciare un ambiente sano ai nostri bambini. Ha ragione perché negli ultimi tempi, nelle ultime settimane sono stati dei problemi, nel senso che l'Ustif, la struttura governativa non ha garantito la manutenzione ad alcuni treni che si trovano in officina. Quindi ogni volta che se ne guasta uno deve rientrare, essere aggiustato e ritornare in corsa e quindi questo provoca dei rallentamenti. Abbiamo troccato il picco più basso, solamente sette treni. Questo problema si è risolto, dal 10 febbraio ci saranno otto treni e un treno di riserva, dal primo marzo nove treni e due di riserva, quindi diciamo che dal primo marzo c'è la garanzia di andare a 10 treni, dal primo settembre ci sarà un ulteriore potenziamento e avremo la garanzia di andare a 7-8 minuti, poi dal 2016 contiamo di andare a 5 minuti. Quindi adesso c'è un cronoprogramma, 10 febbraio e primo marzo si ritorna ai 10 minuti e la garanzia che non ci saranno ritorni, ritardi o situazioni alternate, dato dal fatto che avremo sempre due treni di riserva. Quindi questo consente appunto che possono superire l'emergenza. Possono superire l'emergenza se un treno si ferma. Perfetto, andiamo avanti, vediamo cosa chiede Maria Pia. Grazie a tutti. Allora Maria Pia dice, Sindaco ho letto con dolore che sono stati bloccati i lavori di ristrutturazione di Edellandia perché la sovraintendenza dice che c'è un vincolo storico. Mi domando chissà come degli imprenditori in questo momento di crisi riescono ad investire, a mettere in gioco i propri soldi e c'è qualcuno che dice no. Edellandia non mi pare con tutto il rispetto palazzo reale. Lei cosa ne pensa e cosa può fare? Noi abbiamo fatto un grande lavoro, la situazione si sta sbloccando, stiamo sul pezzo quotidianamente. L'obiettivo è l'apertura Edellandia 19 giugno che se non erro è l'anniversario di Edellandia, di quella che fu Edellandia 50 anni. Quindi noi abbiamo fatto un grande lavoro per salvarla, c'è una cordata di imprenditori, ci sono sempre mille problemi con sovraintendenze e non solo, ma stiamo sul pezzo. C'è una forte volontà da parte mia e da parte nostra di rispettare la tempistica all'estate del 2015 dell'anno di periaprile. C'è un po' troppa rigidità da parte della sovraintendenza, perché effettivamente le giostare e paragonarle a un monumento che può essere Palazzo Reale piuttosto che Piazza Verbiscito mi pare forse anche un'interpretazione un po' restrittiva di alcune norme, il caso di dire giuridicamente parlando. Devo dire che abbiamo avuto sempre diversi problemi con la sovraintendenza, in alcuni casi risolti, in altri no. Quindi anche lì sembrano a corso ostacoli certe volte, però ognuno si assume le sue responsabilità, ma per quanto riguarda Edellandia sono convinto che raggiungeremo l'obiettivo, così come lo abbiamo raggiunto per l'ippodromo, così come l'abbiamo raggiunto in tutta l'area della fattoria didattica, della mostra oltremare. Mi auguro nei prossimi giorni di poter annunciare buone notizie anche sulle terme di Agnano. Anche perché comunque Edellandia è un punto di aggregazione e comunque è anche un punto dove chiaramente molti turisti potrebbero andare, quindi significherebbe anche muovere come al solito l'economia che in questo momento è veramente drammatica. Sì, poi è anche un bel segnale di cooperazione pubblico-privata, come è stato per la fattoria didattica, quell'area si sta molto rivitalizzando perché prima non si poteva proprio più entrare, la zoo è chiuso, Edellandia è chiuso, cioè sono il bullying, adesso invece c'è una prospettiva forte di rilancio. Assolutamente, andiamo avanti. Allora, Leonardo dice, amato sindaco, lo scorso Natale lo ricorderemo per l'invasione dei turisti, come vi state organizzando per vendere anche Pasqua ai tour operator, sarebbe bello vedere anche nelle prossime festività tanti turisti italiani e stranieri girare per la nostra bella città portando un po' di soldi che tanto servono. quali iniziative in cantiere, se si diffondono in anticipo, e qui è un'altra proposta, possiamo anche noi cittadini contribuire attraverso i social network con il passaparola. grazie della sollecitazione che condivido e su quello si sta lavorando, ovviamente per promuovere bene Napoli, come ci ricorda Leonardo, bisogna farlo tutto insieme, quindi noi che rappresentiamo il comune, le risorse anche del mondo del turismo, i tour operatori, gli 2015 secondo me andrà molto bene, innanzitutto abbiamo adesso delle scadenze anche significative da San Valentino, dove sono tante iniziative, la visita del Papa, ci sarà una grande campagna di comunicazione, si prevedono un milione di persone a Napoli, abbiamo il Festival del Bacio, il 28 marzo, Pasqua, Maggio dei Monumenti, estate a Napoli con i concerti e tante altre cose, iniziative importanti su Pino Daniele, insomma c'è un, diciamo tutto, pensare che ci sarà un grande, una grande presenza di turisti, pensate che noi nel 2014 la media nazionale dell'aeroporto italiano è stato più 4,5%, a Napoli abbiamo registrato quasi il più 10%, siamo tra gli aeroporti medio-grandi d'Europa nella top 10. E siamo quelli che più siamo cresciuti rispetto agli altri? Siamo quelli che più siamo cresciuti, abbiamo dati straordinari, apertura di bed and breakfast, anche esercizi commerciali nuovi, tantissimi giovani, un turismo anche di qualità, molti stranieri, ci stiamo attrezzando sempre di più per essere una città turistica e con queste sollecitazioni, come il nostro amico, che insomma tutti vogliono partecipare alla rinascita anche turistico-culturale di Napoli, possiamo fare grandi cose. E poi è una cosa intelligente, perché i social network ormai raggiungono veramente milioni di persone e quindi chiaramente il passaparola è sicuramente un buon viatico. E' così, adesso cominceremo una grande campagna di comunicazione per la visita del Papa. Poi sono molto d'accordo sul fatto dei social network, io ricordo quando mi insediai come sindaco dove c'era l'immagine, se cliccavi Napoli usciva soprattutto la monnezza e l'emergenza rifiuti. Poi attraverso non solo la risoluzione dell'emergenza, ma anche tante iniziative ed eventi sportivi, culturali, andando sui social si vedeva un'altra Napoli. Allora molti sono incuriositi, hanno deciso di venire a Napoli, c'è stato anche un passaparola, nonostante campagne di stampa nazionali, certe volte molto pesanti nei confronti di Napoli, ricorderemo sull'acqua pubblica, sull'acqua, le campagne che sono state fatte sulla pizza, le campagne anche su un pregiudizio discriminatorio, anche certe volte un'eccessiva esaltazione di fatti reato che sono accaduti a Napoli, ma che accadono a Roma, a Milano, in tantissime altre città. Quindi adesso c'è bisogno di una grande partecipazione collettiva su un tema così delicato come quello del turismo. Andiamo avanti. Allora Sindaco, abbiamo visto le immagini di Piazza Quattro Giornate, una bellissima piazza della quartiere collinare. Renato dice che Piazza Quattro Giornate è stata restituita alla cittadinanza con dignità. Si può evitare che ridiventi nuovamente un contenitore di immondizia con più controlli sistematici? Sì, questo si può fare, viene pulita periodicamente anche da Asia o anche Napoli Servizi. L'idea là sarebbe anche quella con la delibera che abbiamo adottato, affida una Iola o adotta una strada, quella di farla adottare anche sul territorio, perché forse in questo modo si potrebbe meglio tenerla. Poi abbiamo in mente una serie di iniziative da fare anche con i giovani, prendendo pretesto anche dalle aggressioni che ci sono state un sabato sera al Collana. Voglio anche personalmente, insieme ai ragazzi e alle scuole, organizzare una serie di iniziative a Piazza Quattro Giornate per dimostrare che deve essere sempre di più la piazza della cultura, della musica, dello stare insieme, delle aggregazioni e poi anche stimolare tutti a tenerla meglio, a non sporcarla, a curarla, fermo restando che le strutture della municipalità, le società partecipate devono fare il loro per tenerla sempre meglio. Poi è veramente una piazza bellissima alle spalle con l'impianto Collana, che sembra che anche lì si sia trovato a bene o male una situazione, una soluzione o si sta trovando una soluzione. Noi ci stiamo lavorando veramente alacremente, il nuovo assessore Ciro Borriello sta facendo un grande lavoro, devo dire abbiamo raggiunto risultati come comune veramente importanti e credo che anche la primavera, il fine inverno, primavera del 2015 possa rappresentare una svolta anche per il Collana e per tanti altri impianti sportivi della nostra città. Anche perché veramente è un impianto che si trova nel cuore del quartiere collinare che è ben servito da metropolitana, funicolare, quindi veramente tutti possono accedervi. Andiamo avanti ancora con una domanda. Luigi, abbiamo visto delle immagini bellissime di quartieri cosiddetti difficili ma con una storia straordinaria. Salve, vorrei chiedere al Sindaco se ha un piano per riqualificare i quartieri difficili di Napoli, di creare infrastrutture in quei quartieri che permettano di allontanare i ragazzi dalla strada. Napoli è sempre nell'occhio del ciclone per cattivi esempi, bisogna ridargli dignità. Ma si fanno tantissime iniziative in tutti i quartieri. Vedo la sanità, penso al Frebeliano, penso ai teatri, penso alle tante cose belle, il cimitero delle Fontanee. Il Miglio Sacro fatto dalla cooperativa da Paranzo. Tantissime cose. Noi abbiamo messo risorse sia come il Palazzo San Giacomo che anche date alla municipalità, in questo caso la terza, per attività di riqualificazione, quindi miglioramento del manto stradale. Io sono molto premurato con la Polizia Municipale che ci debba stare sempre una presenza maggiore. Nell'ultimo comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che è stato convocato dal prefetto tempestivamente, al nuovo prefetto, su mia richiesta, si è affrontato anche un tema di una maggiore presenza delle forze dell'ordine, che già fanno un lavoro straordinario. Io credo molto sui quartieri, sì difficili, ma nei quartieri difficili c'è tanta umanità, tanta cultura, tanta voglia di riscatto. Vale per la sanità come per il rione Traiano, per Scampia come per l'area orientale. Sono stato a Barra recentemente a visitare scuole, fabbriche, luoghi della cultura. Io vedo una città con tanta voglia di riscatto. Poi è chiaro, gli sparatori ci sono, gli eventi criminosi ci sono, però io credo che ci sia una grande voglia di riprendersi centimetro per centimetro tutta la nostra città. Anche nei luoghi più difficili, anche nei vicoli più lontani e complicati c'è voglia di riscatto. Da come sta parlando ci rendiamo conto che lei sta continuando a fare il sindaco di strada, ormai forse è diventata veramente una seconda attività questa. Ma è sempre la stessa. Però lei comunque le permette di conoscere tante realtà che altrimenti da dentro al palazzo non si conoscerebbe. C'è tanta umanità, tanta ricchezza e Napoli è molto meglio di quello che appare. Ma non lo dico perché faccio il sindaco, lo dirò anche dopo quando non farò più il sindaco della nostra città. Io credo che è molto maggiore la potenza, la forza e la bellezza che non sempre appare in televisione o sui giornali. Ecco perché è importante anche una narrazione di Napoli, anche un racconto delle cose che si fanno a Napoli. Insomma in queste ore sono andato a visitare per esempio una scuola di pizzaioli che c'è a Poggio Reale dove attraverso anche l'assessorato alle politiche giovanili si è dato la possibilità a 20 ragazze attraverso una selezione pubblica di imparare il mestiere e l'arte di essere pizzaioli. Ma questo per fare un esempio è piena, è veramente piena. La cosa più bella, devo essere sincero, è che più vai nei luoghi della sofferenza o come dicono alcuni delle periferie di Napoli trovi una centralità esistenziale, c'è proprio una voglia di riscatto e veramente un'energia, una capacità ma anche una profonda cultura. Mi sono emozionato l'altro giorno andando in questa scuola di barra straordinaria, ho visto dei ragazzi suonare e cantare delle canzoni, delle musiche particolarmente complicate, quindi c'è anche una profondità veramente incredibile. Assolutamente, ci sono tante energie. Sindaco, noi la ringraziamo come ogni settimana, ci diamo appuntamento alla prossima settimana, grazie soprattutto a voi che da casa ci seguite numerosi, continuate a scrivere, redazionechiocciolatelevomero.it noi vi risponderemo la prossima settimana. Buonasera, arrivederci. Grazie. 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 Grazie.